Buongiorno a tutti, oggi vi presenterò il proemio del poema lucreziano De Re Rum Natura. Si tratta del famoso Inno a Venere, uno dei passi più celebri della letteratura di ogni tempo. Il poema lucreziano si apre dunque con una invocazione a Venere, la grande divinità del piacere e della vita che la tradizione considera, in quanto madre di Enea, progenitrice dei Romani. Nei versi iniziali, percorsi da un movimento arioso e luminosissimo di venti, di acque, di voli di uccelli, la Dea è celebrata come forza fecondatrice della natura, ispiratrice di quel desiderio amoroso che assicure il perpetuarsi dell'esistenza. Il suo apparire primaverile infonde in tutti gli esseri la dolcezza e gli stimoli dell'amore e fa sì che le stirpi animali si possano riprodurre. A Venere, Lucrezio chiede di essergli compagna nell'opera che intende comporre sulla natura, il De Re Rum Natura per l'appunto, un'opera dedicata a Memnio e di infondere nelle sue parole, una grazia che duri nel tempo, che duri in eterno. Le chiede anche di ottenere da Marte, il suo divino amante che presiede alle imprese guerresche, una stabile pace per i Romani, perché solo così il poeta potrà attendere alla sua opera, in un'epoca in cui la patria è così duramente travagliata. Faremo poi nel corso della traduzione un più attento commento. Adesso leggo il passo in metrica. Si tratta naturalmente di esametri. Avendo fatto Lucrezio la scelta del poema di Dascalico, ne consegue che il metodo debba essere necessariamente l'esametro. Leggo. E' un'epoca di un'epoca di un'epoca. In defere pecudes, per sultant Pabula Leta, et rapidostranant, amnis, ita capta le pore, te sequitur cupidee. Quoquamque inducere pergis, denique per mariac montis fluviosque rapacis, frondi ferasque domossa vium camposque virentis, omnibus incusiens blandum perpector amorem. Effici sud cupidee generatim secla propagent. Quequamiam rerum, naturam sola gubernas, nexine tequi quam dias in luminis horas. Exoritur neque fit letum, nequamabile quicquam, te sociam studeo scribendis versibus esse. Quo se godere rerum, natura pangere conor. Memnia de nostrò, quem tu dea temporin omni, omnibus ornatum voluisti excellere rebus. Quo magis eter num dadictis divale porem. Efficut intere a, feramenera miliziai, per mariac terras, omnis supita qui escant. Nam tu sola potesse tranquilla pace iuvare, mortalis quaniam bellifera, menera mavors, armi potens regit ingremium qui sepetumse. Reicit eterno, devictus vulneramoris, atquita suspicienste reticer vicere posta. Pascit, amora vidò sinians in tede avisus, eque tuo pendet, resupini spiritus ore. Unctu diva tuo recubantem corpore sancto, circun fusa super, sua vissex ore loquellas, funde petens placidam, romanis incluta pacem, namneque nosa geroc patriae temporiniquo. Possumus equanimò, nec memni clara propago, talibus in rebus, comuni desse saluti. Se per la lettura metrica ho utilizzato un file di Word in cui ho riportato il testo, avendo cura di segnare in rosso le vocali su cui cadono i diversi accenti metrici, per la traduzione, il commento e l'analisi del testo stesso, ho voluto cambiare formato e ho creato un Padlet. Eccolo qui, molto semplicemente ho riportato il testo, questa volta tutto in nero, quindi senza la distrazione delle vocali rosse, su una pagina bianca, collocata all'interno di uno sfondo che rappresenta l'universo. Mi è sembrato lo sfondo più adatto per accogliere questo meraviglioso poema che ha proprio l'ambizione di penetrare e di scrutare e di interpretare e indagare gli angoli più riposti dell'universo e del mondo che ci circonda. Bene, cominciamo la traduzione. Eneadum genetrix, madre degli Eneadi. Eneadum è una forma di genitivo plurale arcaico per Eneadaru. Gli Eneadi, ricordiamo, sono i romani, in quanto discendenti di Enea, figlio di Venere e dei profughi troiani. Quindi sono discendenti di Enea e di tutti i profughi che con Enea sono giunti nel Lazio. Il richiamo al mito della fondazione, che sarà ripreso poi anche da Virgilio nell'Eneide, manifesta fin dall'inizio che il poeta non rinuncia a conferire una dimensione civile alla sua opera. Genetrix è un termine aulico e arcaico. È una riminiscenza probabilmente voluta, intenzionale da parte di Lucrezio, degli annales di Egno. Ricordiamo che Egno era per i romani il fondatore, il modello dell'epica nazionale, a cui Lucrezio forse vuole contrapporre il suo poema didascalico. Genetrix indica il principio fecondatore di tutto l'universo e così Lucrezio riesce a saldare il mito alla legge della natura. Venere inoltre era anche la patrona del casato dei Memni e a Memnio, a uno dei membri della casata dei Memni, per l'appunto il poema era dedicato. Voluptas hominum divonque, delizia degli uomini e degli dèi. Dunque Venere è vista come voluptas, come gioia, come piacere, come delizia degli uomini e degli dèi che, spinti dall'amore, assicurano il perpetuarsi della specie, la continuità della vita. La critica ravvisa, gli studiosi ravvisano nella presenza di Venere un'allegoria dell'edonè, cioè del piacere, del piacere, quel piacere atarassico, imperturbabile, catastematico, nel quale Epicuro indicava il supremo ideale dell'uomo e della divinità. Gli dèi sono soggetti a Venere come gli uomini, al pari degli uomini, in quanto anch'essi, gli dèi, sono composti da atomi, con la differenza però che i loro corpi non si dissolvono mai perché sono continuamente reintegrati da flussi di altri atomi. Notiamo, da un punto di vista grammaticale, il genitivo arcaico divom, che sta per divorum, quindi o divum, quindi possiamo avere divum, divom, divorum, comunque è un genitivo plurale, vuol dire degli dèi. Alma Venus, Alma Venere è la traduzione migliore, Sacra Venere potremmo dire. Alma comunque è un aggettivo che deriva dalla radice di halo che vuol dire nutro e quindi è Venere Alma in quanto dona la vita, è datrice di vita, sia in senso proprio, perché appunto è la dea dell'amore, sia anche in relazione con quanto abbiamo detto prima, cioè in relazione al fatto che Venere è la madre degli Eneadi e quindi da lì è nata tutta la stirpe degli Eneadi e quindi i Romani. Allora, qui dobbiamo un po' riordinare le parole. La prima parola che dovremmo dire nella traduzione italiana è il pronome relativo che viene ripreso anaforicamente nella seconda parte del verso, quindi il pronome relativo è decisamente posticipato rispetto alla sua ordinaria e attesa collocazione, dovremmo averlo infatti subito dopo Venus, invece con questi movimenti che la poesia consente abbiamo una efficace anastrofe, quindi un'inversione dell'ordine naturale, della collocazione naturale delle parole e troviamo il que dopo subter, labensia, signa, cieli. Quindi traduco, quindi che, a questo punto metterei la parte che precede, quindi che, subter, sotto, labensia, signa, l'erranti, stelle, stelle traduce la parola signa, mentre erranti è labensia, che propriamente è il participio presente del verbo deponente labor laberis lapsusum labi, che vuol dire scivolare, quindi errare, è bellissimo questo verbo, scusate, attribuito alle stelle, perché significa proprio che le stelle scivolano nel cielo, la parola erranti non rende assolutamente, è l'unica parola possibile che io possa dire, però non rende assolutamente in tutta la sua efficacia il participio labensia. Quindi che sotto le erranti stelle cieli, che sotto le erranti stelle del cielo, ecco il verbo è concelebras, quindi vivifichi, vivifichi, che cosa vivifichi? Adesso abbiamo il complemento oggetto, mare navigerum, quindi il mare, il mare ricco di navi, è un aggettivo composto secondo una attitudine che è propria di Lucrezio, Lucrezio ama moltissimo gli aggettivi composti e questi aggettivi composti sono anche uno sequio alla grande poesia arcaica di Ennio che prima abbiamo citato, quindi sono parole ampollose, parole di un grande spessore poetico. Un altro composto è proprio anche Frugiferentis, che va con Terras. Frugiferentis è un accusativo plurale, inis, anch'esso ha una forma arcaica e vuol dire Terras Frugiferentis, le terre portatrici di messi. Quindi è molto bello questa immagine, praticamente sono i tre settori del mondo che qui vengono rappresentati, i segni sono le stelle, poi abbiamo il mare navigerum, il mare ricco di navi e poi abbiamo le Terras Frugiferentis, cioè le terre portatrici di messi. Tutto il mondo è soggetto all'influsso di Venere, il cielo, il mare, la terra. Quindi che sotto le erranti stelle del cielo vivifichi il mare ricco di navi, che, in ripresa anaforica, vivifichi, il verbo è unico, i pronomi relativi sono due in anafora, ma il verbo è unico, vivifichi, Terras Frugiferentis, le terre portatrici di messi. Naturalmente, diciamo, questi due aggettivi composti rivelano poi le parole di cui sono per l'appunto composti. Navigerum viene da Navis e Gero, mentre Frugiferentis viene da Fruxe e Fero, e entrambi sono Apex Legomena. Che cosa vuol dire Apex Legomena? Cioè sono parole usate soltanto una volta, sono parole composte, secondo la tecnica arcaica di cui abbiamo parlato, e sono parole usate soltanto una volta. Apex Legomena è un'espressione greca che vuol dire dette una volta soltanto. Per te, Quoniam, Genus, Omne, Animantum, Concipitur. Anche qui abbiamo un'anastrofe, perché dovremmo prima dire la congiunzione causale, Quoniam, e poi il per te, che è un complemento di causa, un complemento di mezzo, non so come vogliamo intenderlo. Comunque sarebbe poiché per te, quindi grazie a te, per opera tua, ecco, quindi anastrofe della congiunzione causale, quindi poiché per opera tua, Concipitur viene concepita, Genus, Omne, ogni specie, Animantum, scusate, è un genitivo plurale. Animantum vuol dire di essere viventi, quindi ogni specie di esseri viventi. animantum è il genitivo plurale del participio presente di animo animas, che vuol dire appunto, l'animans, il participio presente, vuol dire essere dotato di vita, quindi essere vivente. Dunque, poiché per opera tua, ogni specie di essere vivente, Concipitur viene concepita, Visitque, è composto dal Quenclitico più Visit, quindi e vede, il soggetto è sempre Genus, Omne, quindi ogni specie, e vede Exortum. Exortum è il participio perfetto da Exorior, che è congiunto con Genus, Omne, questo spiega il fatto che sia neutro. Noi però, Genus, Omne, l'abbiamo tradotto con ogni specie, nome femminile, ecco perché darò ad Exortum il significato di una volta nata, quindi e vede una volta nata, Lumina Solis, la luce del sole, propriamente Lumina è un plurale, è un efficacissimo plurale poetico, che io però traduco in italiano con il singolare. Te, Dea, Te, Fugiont, Venti. Allora, il soggetto sono i venti, i venti Fuggono, Te, Dea, Te. Notiamo i due accusativi, i due pronomi personali in accusativo, ripetuti in anafora, e Fuggono sarebbe Fuggono, in latino è Fuggono più l'accusativo della persona davanti alla quale si fugge. Noi diciamo, i venti Fuggono dinanzi a Te, Odea, dinanzi a Te. Poi abbiamo un altro Te, il terzo Te del verso, quindi, dinanzi a Te, le nubi del cielo, sempre sottinteso, Fuggono. Quindi, dinanzi a Te, dinanzi a Te, Odea, Fuggono i venti, dinanzi a Te, Fuggono, sempre Fuggunt, nubi, la cieli, le nubi del cielo. L'anafora del pronome, sottolineata anche dal gioco alliterante, delle dentali, la dentale Ti, la dentale Di, Te, Dea, Te, venti, Fuggunt, Te, ecco, quindi l'anafora del pronome, sottolineata dal gioco alliterante delle dentali, che continua poi anche nel verso successivo, adventumque, tuum, ecco, e la ripresa dell'anafora successiva, Tibi, Tibi, dei versi 7-8, che adesso sto per tradurre, ecco, questa anafora ribadisce che all'apparire di Venere tutta la natura si ridesta e si abbellisce, con Venere arriva dunque la primavera. Dunque, Te, nubi, la cieli, Fuggunt, adventumque, tuum, cioè, dinanzi a Te fuggono le nuvole del cielo e dinanzi al tuo arrivo, quindi fuggono dinanzi a Te, fuggono dinanzi al tuo arrivo, adventumque, dove notiamo il queenclitico che si trasforma in un et davanti ad adventum, quindi dinanzi al tuo arrivo. Adesso in un'efficace poliptoto, il Te, ripetuto in anafora tre volte nel verso precedente, si trasforma in Tibi, prima Te era in accusativo, ora Tibi è dativo e quindi possiamo parlare di poliptoto del pronome, quindi per Te, Dedala Tellus, la terra, Dedala vuol dire operosa, la terra che è un'artista creatrice, Dedala infatti viene dal greco Daedallo, dal verbo Daedallo, che vuol dire lavoro con arte, abbellisco, da questa radice deriva anche il nome del mitico Dedalo, architetto del labirinto cretese e inventore, ci ricordiamo, del volo. È un raffinatissimo aggettivo che appare altre volte in Lucrezio, e qui significa proprio la terra operosa, quindi per Te la terra operosa, summittit, fa sbocciare, e anche questo è un verbo intraducibile nella sua icastica incisività, indica tanto l'opera produttiva della terra, cioè quasi mette sotto e quindi produce, quanto il suo offrire ciò che produce a Venere, cioè offre proprio a Venere, il prefisso sub indica che in omaggio a Venere, la terra fa nascere quasi un tappeto di fiori sotto i piedi della Dea, quindi per Te l'operosa terra, summittit, fa sbocciare, suavis flores, quindi flores ha come suo aggettivo suavis, che è al verso 7, suavis, fra l'altro è un accusativo arcaico, starebbe per suaves, quindi suaves flores, suavi fiori, dolci fiori, certo è che aggettivo e sostantivo sono molto distanziali, tra di loro sono in forte iperbato, tibi, per te, quindi anafora del tibi, rident e queraponti, ridono le distese del mare, placatumque nitet, il placatumque è costituito dal quenclitico più placatum, quindi il quenclitico lo trasformo subito in un et, prima di placatum, e placatum rasserenato, è attribuito al cielo, anche qua notiamo un forte iperbato fra placatum e celum, quindi un forte distanziamento fra placatum e celum, quindi è rasserenato, il cielo nitet, risplende, diffuso, lumine, di una luce diffusa. Tutta la scena gode di una luminosità che è ineguagliabile, ed è sottolineata dalla preziosità dello stile, abbiamo già visto questi verbi estremamente ricercati, il mare che ride, il cielo che risplende, che nitet, e anche lo stile è molto prezioso, abbiamo già sottolineato l'anafora, e poi abbiamo già sottolineato il poliptoto, l'iperbato, e ancora al verso 9, notiamo questa straordinaria armonia, l'identità delle clausole degli ultimi cinque versi, dove lo sfondeo finale è sempre costituito dalle parole fondamentali, che sono solis, celi, tellus, ponti, celum, sono tutte fra l'altro parole bisillabiche, quindi noi forse siamo meno abituati a cogliere proprio anche l'armonia musicale dei versi, dei versi classici, ma gli antichi sicuramente più abituati di noi alla musicalità, alla musicalità data da questa accentuazione di tipo quantitativo, non qualitativo, avranno sicuramente apprezzato la costruzione perfetta di questi versi. NAM, di fatto, ecco, la particella qui non ha propriamente un valore esplicativo, infatti, serve per introdurre più che altro una variazione, una esplicitazione ulteriore sullo stesso tema dei versi precedenti, spesso si trovano in Lucrezio questi nessi che non appartengono tanto alla poesia quanto alla prosa, eppure Lucrezio trasporta i movimenti proprio della prosa all'interno di questa poesia che poi è una poesia di tipo filosofico, quindi di fatto simulac è una congiunzione di tipo temporale non appena. Ecco, qui ascoltiamo attentamente perché la costruzione non è facile. Allora, prima lo faccio alla lettera, alla lettera non è proprio meraviglioso, e dopo cerco di spiegarlo in un italiano più fluido, più corrente, quindi non appena. Species, lo spettacolo concordato con Species è verna, che vuol dire primaverile, quindi non appena lo spettacolo primaverile diei di un giorno, patefactast, patefactast è una sinalefe per patefacta est, quindi propriamente è apparsa, meglio in italiano appare, riportare tutto quindi dal perfetto di tipo gnomico, di tipo di consuetudine al presente, quindi non appena lo spettacolo primaverile di un giorno appare, et reserata viget, e reserata dischiusa viget si diffonde, aura genitabilis, la brezza fecondatrice, aura e brezza e genitabilis fecondatrice, favoni di favonio, del favonio, che è un vento, ecco, mi fermerei alla temporale per spiegare meglio, quindi la principale la traduco dopo. Allora qua ci sono molte cose da dire, innanzitutto che lo spettacolo primaverile di un giorno, preferiamo tradurlo con lo spettacolo di un giorno primaverile, si realizza così una enallage, cioè l'attributo è riferito ad un elemento diverso, species, da quello a cui sarebbe logicamente riferibile, che è diei, quindi non è lo spettacolo ad essere primaverile, ma è il giorno ad essere primaverile, questa figura si chiama per l'appunto enallage, quindi l'attribuzione di un attributo ad un'altra parola rispetto a quella a cui sarebbe logicamente legata, quindi comunque non diciamo lo spettacolo primaverile di un giorno, ma applicando l'enallage diciamo lo spettacolo di un giorno primaverile. La primavera è tradizionalmente la stagione degli amori, quindi il momento più idoneo per cogliere l'opera rigeneratrice di Venere. Patefacta est l'abbiamo già detto, a essere una sinalefe, ecco, e si diffonde dischiusa, reserata, reserata abbiamo tradotto con dischiusa e propriamente andiamo proprio al nucleo della parola, vuol dire liberata dai serrami, cioè dalle sere, ad opera del favonio, che è uno dei venti, l'immagine ben si addice alla primavera, perché il rigore invernale è come dire, tiene chiusa, tiene serrata dentro dei serrami ogni forma di vita. Per la stessa ragione, fra l'altro il nome di Aprilis deriva da Aperio, cioè Aprilis è il mese che si apre, quindi Aperio, ad una nuova stagione. La brezza è Genitabilis, Genitabilis qui ha il senso di fecondatrice, ha un significato attivo, ecco, notiamo che di solito il suffisso bilis è un suffisso di tipo passivante, ma in poesia, e specialmente in Lucrezio, il suffisso bilis non ha solo un valore passivante, ma ha anche un valore attivo, quindi non è quella che viene fecondata, ma è lei che feconde, è la brezza fecondatrice del favonio. Il favonio è zeffiro, è il vento caldo che ispira da Ponente e annuncia la primavera. Ecco, finita questa complicata temporale, adesso abbiamo la principale. Primum da prima, volu cres aeree, gli uccelli dell'aria, il nome è femminile, il latino, ecco perché l'aggettivo è aeree, quindi, però in italiano traduco al maschile, quindi gli uccelli dell'aria, significante annunciano te, diva o dea, tunque initum, tunque è costituito dal queenclitico più tum ed è riferito ad initum, annunciano te e il tuo arrivo. Perculse, sempre riferito a volu cresse, quindi noi continuiamo a tradurre al maschile, quindi colpiti, corda è un accusativo di relazione nel cuore, tua vi, complemento di causa efficiente, dalla tua forza. Inde è in correlazione col primum precedente, poi, le fere, pecudes, quindi il soggetto è pecudes, gli animali, fere, diventati feroci, e quindi propriamente vuol dire feroci, ma non è un attributo di pecudes, è un aggettivo che si riferisce a pecudes, che però indica non un attributo consueto di pecudes, ma il risultato dell'azione di Venere, perché Venere risveglia gli istinti animali, quindi gli animali possono anche diventare feroci per questi istinti amorosi. Quindi poi pecudes gli animali, fere diventati feroci, per sultant, quindi saltano il per preverbio del verbo, quindi il per con cui il verbo comincia, giustifica l'accusativo successivo pabula leta, quindi saltano per i pascoli lieti, pabula sono i pascoli e leta sono lieti. Allora, da un punto di vista fonico, notiamo pecudes per sultant pabula, costituiscono una efficacissima alliterazione che accentua proprio la coesione testuale del verso. La clausola pabula leta è fra l'altro molto frequente in Lucrezio e qui all'alliterazione della P subentra l'alliterazione della liquida L, pabula leta. L'aggettivo leta, infine, appartiene al lessico agricolo, in riferimento alla fecondità. Ricordiamo che l'etus si ricollega all'etamen, cioè al concime, che ingrassa le coltivazioni e quindi rende gioiosa la terra. Diciamo dall'ambito agricolo, si passa poi all'ambito spirituale e quindi vuol dire lieto, vuol dire anche felice. Ricordiamo che la lingua latina ha un substrato agricolo molto, molto forte. Il verbo per sultant è costituito da per più salto e salto a sua volta è un intensivo di saglio che vogliono, tutti questi verbi vogliono dire poi saltare. Saltare non è propriamente un verbo transitivo, diventa transitivo perché ha questo prefisso per che spiega poi appunto che regge Pabula Leta, quindi saltare per i bascoli lieti, quindi è un accusativo di moto per luogo preceduto dal per. Et tranant è attraverso la nuoto, amnis è l'accusativo arcaico per amnes, fiumi, e questi fiumi sono rapidos, cioè impetuosi. L'immagine evoca proprio la forza dei fiumi, rapio vuol dire propriamente porto via e quindi rapisco, quindi è come se la corrente dei fiumi portasse via tutto ciò che capita a tiro, quindi qui viene adattata la situazione stagionale, in primavera i fiumi sono in piena perché si sciolgono appunto le nevi, al contesto volto ad illustrare la forza travolgente dell'amore che non si arresta di fronte agli ostacoli, proprio come un fiume in piena. Ita, così, ecco anche questo passo non è da un punto di vista grammaticale molto semplice, cercherò di essere chiara. Allora, adesso prima lo faccio alla lettera, quindi così capta le pore. Allora, le pore è un ablativo dall'epos ed è un termine chiave in Lucrezio. Qui indica proprio il fascino dell'amore che cerca cupide, quindi bramusamente, una soddisfazione, ma è anche usato in riferimento alla grazia poetica che più avanti, al verso 28, Lucrezio chiede a Venere per i suoi versi. Quindi l'epos è il piacere, il fascino dell'amore, ma è anche la grazia poetica. Quindi, capta le pore, presa dal piacere. Allora, chi è che è preso dal piacere? A chi si riferisce questo capta? Ecco, questo è piuttosto difficile da comprendere. Il soggetto sottinteso di questo capta è ricavabile dal quamque del verso successivo, che propriamente è un accusativo. E entrambe, capta, nominativo del participio, e quamque, accusativo del pronome distributivo quisque, si riferiscono a pecus. Qui abbiamo trovato pecudes fere, al nominativo, noi lo dobbiamo considerare al singolare, pecus, pecus, e pecus è femminile, sarebbe ogni animale. Allora, provo a spiegare. Ita, così, capta, facciamo che sia sottinteso questo pecus. Un animale capta, preso, lepore dal piacere, sequitur, segue, te, accusativo, te, cupide, bramosamente, quo, dove, è un avverbio di moto a luogo, pergis, tu spinga, tu voglia, tu spinga, inducere a condurre, quamque, eccolo qua, ciascuno, ciascun animale. Solo che noi in italiano non riusciamo a fare, mantenere al pronome questa posizione, non ce la facciamo proprio a tradurre. Quindi ci conviene prendere questo quamque, e portarlo al verso successivo, prima di capta, trasformarlo in un nominativo, quindi sarebbe queque, pecus, quindi ciascun animale, e trasformarlo appunto come soggetto di capta, che ha poi come verbo sequitur, quindi quamque, io lo porto davanti a capta, lo trasformo in queque, quindi femminile, riferito a pecus, animale, e la traduzione sarà, così, di ita, queque, pecus, ogni animale, queque sarebbe il quamque, di sotto, reso nominativo, e pecus è sottointeso, ogni animale, capta, preso, le pore, dal piacere, sequitur te, seguete, cupide, bramosamente, quo, dove, percis, inducere, tu voglia condurlo, dove propriamente pergo vuol dire spingo, quindi non è solo la volontà, è proprio anche la spinta, dove tu spinga a condurlo. Denique, insomma, denique ha qui un valore riassuntivo, di solito in Lucrezio vuol dire inoltre, ma qui sta benissimo tradurre insomma, introduce una serie di ambienti naturali, che oltre ad aggiungere altri tratti descrittivi, allarga la visione poi della forza travolgente dell'amore, quindi insomma, per Maria, Acmontis, solito accusativo arcaico, per Mari e Acmontes, starebbe per Acmontes, per Mari e per Monti, Fluviosque, Rapacis, il que enclitico equivale ad un et che io prendo e metto davanti, quindi e Fluvios, Rapacis è il solito accusativo arcaico per Rapacis, e per fiumi travolgenti, notiamo che Rapacis ha la stessa radice di Rapio, che aveva anche Rapidos al verso 15, entrambi alludono alla forza travolgente, al trascinar via la forza travolgente del fiume, e quindi metaforicamente dell'amore. e per fiumi travolgenti, Frondiferasque domos, e per le Frondiferas sono le Frondose domos di more avium degli uccelli, e Camposque virentis e per i campi verdeggianti, quindi Frondiferasque domos avium è bellissimo, questo sono le Frondose case degli uccelli, le Frondose di more degli uccelli, sono gli alberi dei boschi, che all'arrivo della primavera si riempiono di foglie, e costituiscono le case degli uccelli, e naturalmente questo domos avium è un sintagma indimenticabile, che dà proprio conto della preziosissima cifra stilistica di Lucrezio. Omnibus incutiens, quindi a tutti spirando un blandum amorem, un dolce amore per pectora, è ancora una volta un plurale poetico che io traduco col singolare, quindi nel petto, efficis ut, fa in modo che, l'ut è un ut di tipo completivo, retto da un verbo um curandi, quindi fa in modo che, propagent, propagino, secla, quasta per le stirpi, le loro stirpi, cupide, bramosamente, generatim è un avverbio, tra l'altro un avverbio inim, che quindi è un arcaismo particolarmente caro all'arcaizzante Lucrezio, e vuol dire specie per specie. Dopo aver presentato questo meraviglioso paesaggio di un mondo che si ridesta all'arrivo della primavera, e dunque all'arrivo di Venere che si congiunge alla primavera, perché Venere rappresenta l'amore, il poeta chiede ora a Venere una grazia, la grazia che lo sostenga nella sua opera, e che la renda degna delle eccellenti qualità del dedicatario, Memnio per l'appunto. Que quoniam rerum naturam sola gubernas? Allora, que quoniam è un nesso del relativo con anastrofe, cioè que corrisponde a et tu, e quoniam è la consunzione causale che andrebbe naturalmente messa prima, quindi l'espressione que quoniam diventerebbe et quoniam tu, e poiché tu, tu sola, tu sola, gubernas, governi rerum naturam, la natura, nec sine te, e nec è una negazione che però noi andiamo ad appoggiare sul pronome quicquam, quindi diremo nec sine te vuol dire e senza di te, e quicquam diventa come nil, e senza di te nulla, e dias in luminis oras, nulla alle celesti, dias vuol dire celesti, oras sono le plaghe, le zone luminis della luce, quindi e senza di te nulla alle celesti, plaghe nel senso di zone, regioni, contrade, ecco luminis della luce, ex oritur si affaccia, quindi nulla senza di te, si affaccia alle celesti, plaghe, alle celesti regioni della luce, e poi ancora neque fitte, e non esiste ancora quicquam, nulla letum neque amabile, nulla di grazioso né di amabile, la causale è ancora in atto, quindi c'è una lunga causale, prima della principale, analizziamo alcuni elementi di questa causale, beh, innanzitutto abbiamo visto la ripetizione del pronome quicquam, quindi l'anafora di quicquam, ed è in posizione chiastica rispetto ai due verbi, quindi quicquam, il primo quicquam ha come verbo ex oritur, e il secondo quicquam ha come verbo fit, quindi sarebbe quicquam ex oritur, fit quicquam, quindi si viene a costruire un chiasmo, secondo un uso molto frequente in Lucrezio. Ancora vorrei sottolineare l'aggettivo dias, che va con oras, l'aggettivo dius, diadium, è, diciamo, è costituito dalla stessa radice di dies e di jupiter, sappiamo che jupiter viene da diupater, e quindi dies, jupiter, vale come celeste, divina, divino, ed è un aggettivo di origine eniana, così come lo è il nesso luminis oras. Fra l'altro, dias in luminis oras, notiamo l'inversione della preposizione in, quindi parleremo di anastrofe di in rispetto a dias, perché in un testo in prosa sarebbe in dias luminis oras. Bene, dopo la lunga causale, arriviamo alla principale, che è studio, desidero, segue un'infinitiva, te sociam esse, quindi che tu sia mia compagna, mia non c'è, lo dico io, quindi che tu sia mia compagna, scribendis versibus, scribendis versibus è dativo del gerundivo con valore finale, quindi per scrivere versi, nello scrivere versi. Questa è la vera e propria invocazione alla Dea, o alla Musa, secondo i moduli letterari, qui il nostro Lucchezzo, sappiamo bene, ha scelto di sostituire alla canonica Musa, in apertura del proemio, la Dea Venere. Il cantore della natura e della scienza non si sottrae dunque alla consuetudine poetica, ma le conferisce una valenza tutta particolare e sa dare una forza tutta particolare alla sua richiesta di aiuto, soprattutto perché Venere, che è socia, ispiratrice, quasi siummacos, direbbe saffo nella sua celeberrima poesia, domina già con il suo fascino, i versi precedenti. Quindi chiede a Venere di sostenerlo nella fatica di scrivere versi. Scribendis versibus, versibus quos, versi che, ego, io, conor, mi, accingo, pangere, a, comporre, de rerum natura, sulla natura. Notiamo che qui viene proprio esplicitato il titolo del poema, che poi traduce il titolo greco per i Fiusios, dell'opera maggiore di Epicuro, in 37 libri, oltre che quello poi anche del poema di Empedocle. Pangere, pangere qui nel senso di comporre, il significato originario però non è quello di comporre, ma è conficcare, e qui allude per metonimia all'atto dello scrivere premendo lo stilo sulla cera della tavoletta. e il verbo conor vuol dire propriamente tento, conor, conaris, conatus, sum, conari, è un verbo deponente, da cui conatus, che vuol dire tentativo, quindi indica proprio la difficoltà dell'argomento. Lucrezio più volte ritorna nel suo poema sul concetto della difficoltà della poesia di aderire ad un argomento così elevato. Memniade nostro, quindi per il nostro Memniade, dopo dirò due parole su questo personaggio, quem tu dea tempore in omni, quindi che tu o dea tempore in omni, solita anastrofe della preposizione in rispetto al suo sostantivo, quindi in ogni occasione voluisti, hai voluto, seguo in infinitiva, excelere, che si distinguesse ornatum, adorno, omnibus e in forte iperbato rispetto a rebus, quindi adorno di ogni virtù. Allora, dobbiamo parlare di Memnio, questo il nostro Memniade, i commentatori sono quasi del tutto concordi nell'identificare Memnia da nostro con quel Gaio Memnio che fu originario di nobile famiglia e che fu nel 77 questore di Pompeo in Spagna, fu poi tribuno della plebe, fu pretore nel 58 e anche pro pretore in Bitinia nel 57. In quell'occasione ebbe al suo seguito Catullo, quindi pare che questo Memnio a cui Lucrezio si rivolge sia lo stesso Memnio legato alla biografia di Catullo. Fu coinvolto in tentativi di corruzione compiuti quando presentò la candidatura al Consolato e fu per questo condannato all'esilio che scontò in Grecia. Pare che fosse dotato di buone qualità oratorie anche se Cicerone lo definisce troppo pigro per metterle a frutto lo dice nel Brutus e forse fu anche poeta forse anche autore di componimenti un po' licenziosi tanto che meritò gli improperi di Catullo e la stima di Lucrezio che gli dedicò appunto il poema. È difficile stabilire quali rapporti ci fossero tra Lucrezio e Memnio e per alcuni il tono così ossequioso celebrativo del poeta nei confronti del dedicatario svelerebbe e denuncierebbe una sorta di soggezione di Lucrezio forse un cliente di Memnio che quindi si configura come Enrico Patronus o addirittura le origini servili di Lucrezio Liberto o figlio di Liberto diciamo si spiegherebbero cioè spiegherebbero questo atteggiamento di sudditanza e di soggezione di Lucrezio nei confronti di Memnio in realtà le ragioni della dedica Memnio rientrano prima di tutto nella convenzione letteraria cioè bisogna che ci sia un personaggio a cui dedicare l'opera il poema di Dascalico soprattutto il poema di Dascalico stabilisce un rapporto continuo tra il poeta e il destinatario che al tempo stesso è anche discepolo Lucrezio si rivolge a Memnio Memnio è invocato nove volte nell'opera e altre volte soltanto apostrofato e Memnio a sua volta in cambio dell'insegnamento filosofico ricevuto concederà la sua amicizia a Lucrezio d'altra parte è anche giusto indicare che sottolineare che la presenza di Memnio si indebolisce sempre di più nel corso dell'opera questo potrebbe essere ad esempio un indizio che ci fa pensare che la fortuna politica del personaggio col passare del tempo sia venuta meno oppure che sia subentrata qualche altra ragione per cui Lucrezio è rimasto deluso da Memnio oppure anche che semplicemente Lucrezio ha preferito rivolgersi a un pubblico più vasto che un lettore determinato come appunto Memnio quindi preferisce forse Lucrezio col passare del tempo e acquisendo una maggiore consapevolezza delle sue capacità ha pensato di rivolgersi a un lettore indeterminato piuttosto che a un lettore determinato come Memnio del resto Lucrezio dipinge Memnio come un discepolo da convertire alla filosofia epicurea quindi come un discepolo ideale al quale chiede collaborazione per poter giungere alla conquista della atarexia della serenità dell'imperturbabilità questa estensione della figura del dedicatario da un singolo personaggio storicamente determinato a un'intera comunità di lettori è forse un indizio del pubblico a cui Lucrezio indirizzava la sua opera l'aristocratico Memnio infatti è un membro di quella classe colta che pur non essendo particolarmente inclina alla filosofia aveva comunque i requisiti per comprendere una dissertazione vasta e complessa come quella che Lucrezio si accinge a fare in uno stile fra l'altro molto ricercato molto elevato ma anche in un certo senso aperto al gusto dei poeti neoterici a Lucrezio contemporanei tornando al testo notiamo ancora alcune figure retoriche omni con cui si chiude il verso 26 e in poliptoto rispetto con anzi con omnibus che apre il verso 27 ancora omnibus va con rebus qui ovviamente da non tradurre con cose ma con virtù quindi adorno di ogni virtù è chiaro che il carattere convenzionale della dedica richiede che il dedicatario sia pieno di virtù anche se alcuni indizi storici ci inducono a pensare che forse questo personaggio questo memnio non dovette brillare di virtù particolari e anzi finì per deludere tutti coloro che in lui avevano riposto delle grandi aspettative come appunto il nostro Catullo di cui prima abbiamo parlato e ancora nella parte finale siamo giunti quindi all'ultimo segmento di questo proemio i versi 28 43 in cui Venere viene a Venere viene rivolta una particolare richiesta Venere deve placare con le sue grazie il dio della guerra Marte ottenendo da lui la pace per i romani infatti soltanto se il mondo sarà in pace Lucrezio potrà coltivare la sua poesia e Memnio potrà trovare la libertà dagli impegni civili che gli consentirà di occuparsi di scienza e di poesia quo magis eternum da dictis diva le pore quo magis tanto più il quo si può intendere un esso del relativo quindi tanto più sarebbe eo magis e tanto più quindi eo magis ma in questo caso traduciamo semplicemente tanto più senza le davanti da è l'imperativo del verbo dare concedi eternum le pore concedi eterna bellezza le pore diva o dea vocativo dictis alle mie parole dictis sono le parole sono le parole dette il rapporto tra venere e la composizione poetica non si non si configura qui in termini di ispiratio di ispirazione come nella consueta invocazione alle muse che figura frequentemente nelle parti premiali dei poemi basti pensare all'Iliade o all'Odissea ma sulla base di un criterio estetico all'insegna del bello quindi non è la musa che deve ispirare il canto deve trasmettere l'entusiasmos quindi l'ispirazione al canto ma qua è proprio la dea dell'amore che diventa incarnazione della bellezza quindi il poema si configura come un poema filosofico che deve comunque essere strutturato all'insegna del criterio estetico della bellezza il pensiero di Lucrezio può essere spiegato nel senso che l'attività poetica risentirà come l'amore di una particolare disposizione degli atomi dell'animo che è in tutta proprio da Venere la dea della bellezza e la bellezza qui è espressa dalla parola lepore il lepos che abbiamo sentito già al verso 15 a cui Lucrezio aspira è la bellezza del verso perseguita anche attraverso un uso linguistico variegato che va dagli arcaismi ai tecnicismi dal linguaggio semplice al linguaggio più ricercato dalla parola base semplice alla parola addirittura composta Lucrezio è insomma piuttosto lontano dal criterio stilistico stoico del decoro del decor inteso come senso della misura che poi trionferà nell'epoca augustea ed è piuttosto più vicino alla poetica dei poeti neoterici quindi il lepos è questa grazia questa bellezza che viene da una mescolanza di elementi da un insieme di elementi effice ut quindi l'aveva già usato prima non all'imperativo all'indicativo ma lo stilema è lo stesso quindi fa in modo che questa volta è un imperativo fa in modo che interia intanto fera menera le feroci opere miliziai di guerra le feroci opere di guerra è una perifrasi epica per indicare la guerra stessa la guerra che venere dea dell'amore quindi dea della pace può far cessare intercedendo presso Marte dio della guerra l'alliterazione evidente fera menera miliziai ed è un'alliterazione a disapore arcaico che è in linea con altri due arcaismi il primo è menera per munera che poi ritornerà anche al verso 32 dove notiamo il passaggio del dittongo oe a u ed è un dittongo che risale al secondo secolo avanti cristo il secondo arcaismo è miliziai per milizie con la desinenza ai di genitivo singolare una desinenza arcaica questa desinenza è costituita da a che è la finale dei temi dei sostantivi della prima declinazione e da i che è la desinenza di genitivo della seconda declinazione estesasi anche alla prima presente negli autori arcaici la desinenza ai si trova anche in virgilio il lucrezio è la forma più usata per il genitivo dei sostantivi invece per gli aggettivi è usata poche volte la desinenza classica a e quindi il dittongo e del genitivo della prima declinazione deriva dalla contrazione del bisillabo ai nel dittongo lungo ai che alla fine di parola diventa poi a e bene quindi fai in modo che intanto le feroci opere di guerra sopita andiamo al verso successivo 30 sopita cioè vuol dire placate qui escant abbiano pace per maria per i mari ac terras omnis che sta per ac terras omnes solito arcaismo quindi e per tutte le terre nam infatti tu sola come aveva già precedentemente detto potes puoi iuvare giovare tranquilla pace è un abletivo strumentale con una tranquilla pace mortalis sta per mortales perché il verbo iuvare vuole in latino l'accusativo in italiano invece si dice giovare ai mortali quonia quindi causale poiché ancora fera menera belli che è una variazione rispetto a fera menera miliziai del verso 29 quindi fera menera belli vuol dire sempre le feroci le fiere feroci opere della guerra anche sopra voleva dire della guerra solo che viene a questo sintagma si sostituisce miliziai con belli quindi perché le fiere opere della guerra mavors è il soggetto marte armipotens signore delle armi ancora un 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 aggettivo composto che innalza il linguaggio che marte signore delle armi guida quindi le fiere opere della guerra che marte signore delle armi guida allora riprendiamo approfondiamo alcuni dettagli abbiamo detto che fera menera miliziai è uguale a fera menera belli con una disposizione chiastica però degli elementi perché al verso 29 miliziai è alla fine e al verso 32 belli è invece all'inizio del sintagma ancora notiamo mavors mavors armipotens mavors è la forma arcaica per mars quindi il dio della guerra mars e questa forma arcaica mavors è anche essa di origine ignana e l'aggettivo armipotens del verso successivo del verso 33 è di uso arcaico nella sua composizione doppia di arma e potens quindi armipotens quindi colui che è potente con le armi quindi signore delle armi questo è un aggettivo di uso arcaico ripreso anche da Virgilio ed è evidenziato accentuato dall'enchant man quindi mavors armipotens nel verso successivo costituiscono un enchant man qui quindi mavors qui ancora una volta il pronome relativo è posposto rispetto alla sua alla posizione attesa sarebbe qui in gremium tum se sepe eccetera eccetera ma il abbiamo l'anastrofe del pronome relativo quindi che sepe spesso reicit abbandona se se stesso in gremium tum quindi nel tuo grembo devictus vinto eterno vulnere dall'eterna ferita amoris d'amore questa descrizione dell'abbandono tutt'altro che virile marziale del dio della guerra tra le braccia di venere è efficacissima è famosissima e diciamo che questa descrizione ha una evidenza plastica così precisa da far pensare che effettivamente Lucrezio avesse in mente un gruppo scultorio alcuni critici hanno voluto vedere in venere e marte la personificazione dei due principi opposti del filosofo Empedocle cioè filia l'amore e neicos la contesa dal cui rapporto dipenderebbe l'armonia dell'universo altri pensano invece che nella venere di Lucrezio coesistano i due aspetti delle donè di cui parlano gli epicurei cioè il piacere in movimento il piacere cinetico e il piacere invece stabile il piacere catastematico atque ita e così suspicens guardando ti il ti è sottinteso tereti service reposta con il ben levigato collo reposta volto all'indietro collo e service e tereti vuol dire ben levigato l'aggettivo viene da tero e appunto l'aggettivo significa ben levigato finemente lavorato di solito è in riferimento ad una scultura ed è usato in poesia per indicare la forma sottile delle gambe delle braccia delle dita in questo caso parliamo del collo e parliamo soprattutto parliamo del collo di Marte il dio della guerra che certamente siamo soliti immaginare piuttosto massiccio e robusto quindi questo collo appare quasi trasfigurato dall'amore quindi un po' asciugato dall'amore non senza un pizzico di ironia da parte di Lucrezio bene pascit amore quindi pasce ed amore avidos visus gli avidi sguardi inians in te dea anelando a te o dea inio vale propriamente per sto con la bocca aperta e rende molto bene la ansia e la passione con cui Marte aspetta l'amore di venere equo equo tuo pendet resupini spiritus ore allora equo è composto dalla preposizione e che si concorda poi con tuo ore e tuo ore sono in forte distanziamento quindi in forte iperbato diciamo e la la consunzione in cliteca que quindi sarebbe et e tuo ore quindi e dalla tua bocca pendet pende il soggetto spiritus quindi il respiro resupini sottintendo un eius quindi di lui che è supino unc tu diva tuo recubantem corpore sancto circonfusa allora unc questo riferito a Marte ed è un complemento oggetto quindi lui questo il soggetto è tu notiamo però l'accostamento molto significativo tra unc e tu che rende anche visivamente l'idea dell'abbraccio unc lui quindi questo tu tu diva o odea tuo corpore sancto con il tuo corpo divino sancto sta qui per divino e l'aggettivo sancto sicuramente mantiene la sacralità della scena pur in un contesto che è pieno di molle sensualità ecco con il tuo corpo divino circonfusa quindi qui ha valore attivo abbracciando e super è difficilmente traducibile regge unc e recubantem quindi vuol dire abbracciando da sopra quindi stai sopra unc recubantem lui mentre è sdraiato quindi abbracciando da sopra lui mentre è sdraiato tu odea con il tuo corpo divino funde è un imperativo versa suavis loquellas suavis sta come sempre per suaves dolci parole ex ore dalla bocca è lo stesso stilema che abbiamo trovato sopra al verso 37 dove pure era così mascherato dal quenclitico equetuo ore era ex tuo ore in pratica e quindi versa dolci parole dalla bocca petens invocando placidam pacem una pace tranquilla romanis per i romani incluta o gloriosa è un vocativo e con questo vocativo si rivolge a venere ritorna la parola pacem che abbiamo trovato anche più sopra sopra si parlava di tranquilla pace adesso parliamo di placidam pacem dove sono evidenti l'alliterazione e anche l'iperbato che ha determinato poi lo spostamento della parola pacem alla fine del verso in explicit di verso che è una posizione chiave sicuramente molto enfatica quindi ancora una volta si parla di pace dunque se nei versi precedenti venere è colta nel suo aspetto di piacere in movimento piacere cinetico e a questo si riferiva l'arioso dinamismo dell'esordio del poema ora la dea simboleggia il principio del piacere statico del piacere catastematico che può garantire la pace che può mettere a tacere le tensioni i conflitti nam infatti ne quenos ne noi il verbo è possumus al verso 42 ne noi possiamo agere oc attendere a questo cioè a quest'opera agere oc vuol dire condurre quest'opera realizzare quest'opera attendere a quest'opera tempore iniquo patriae in tempi tristi iniquo sta per tristi in tempi tristi è meglio tradurre al plurale in italiano patriae per la patria ancora una volta un archeismo sopra abbiamo visto miliziae qua vediamo patriae in tempi tristi per la patria equo animo con sereno animo nec ne la clara propago memni l'illustre discendente di memnio quindi è memnio figlio il destinatario di memnio l'illustre discendente di memnio talibus in rebus in tali circostanze sottinteso il verbo potere che dal possumus al verso 42 diventa potest quindi può desse venir meno comuni saluti alla comune salvezza quindi potrebbe venir meno alla comune salvezza però in questo caso il verbo potest non c'è è sottinteso ed è ricavabile dal possumus del verso 42 vorrei richiamare la vostra attenzione sui due aggettivi iniquo alla fine del verso 41 e equo nel verso 42 sono praticamente due aggettivi in antitesi tra di loro perché tutte e due hanno riferimento alla parola equus che vuol dire giusto quindi equo animo non lo traduciamo con giusto animo ma con animo sereno e il suo contrario iniquo è riferito a tempore con allusione a un momento storico evidentemente di contrasto di tensione di guerra questa allusione con cui Lucrezio sottolinea il concetto per cui alle opere della poesia e dell'arte si adattano solo la pace e la serenità ha lasciato intravedere la possibilità di determinare l'epoca in cui il poema fu composto in realtà qui l'indicazione è molto generica e non permette di individuare nessuna delle tante guerre che sconvolsero Roma nella prima metà del secolo dalla lotta tra Mario e Silla alla spedizione mitridatica alla congiura di Catilina ai torbidi degli anni 59 e 58 che precedettero poi la partenza di Cesare per le Gallie certamente si parla di una situazione si allude diciamo ad una situazione politica travagliata e in contrasto con i travagli della situazione politica Lucrezio aspira all'ideale picureo della ataraxia cioè della imperturbabilità interiore si conclude qui questo meraviglioso proemio che abbiamo appena letto riprendiamo alcuni elementi fondamentali abbiamo visto che i primi venti versi sono una splendida luminosissima descrizione dell'arrivo della primavera rappresentato come epifania divina l'avvento di Venere idea dell'amore idea del piacere è l'apparizione mirabile di una potenza sublime che mette in moto tutte le forze positive della natura lo stile assume le movenze del linguaggio della preghiera e della forma proprio dell'inno dell'inno di invocazione di quello che i greci chiamavano inno di invocazione caratterizzato dall'elogio della divinità quindi la retalogia tutte le sue funzioni le sue competenze le sue menzioni l'elenco dei suoi attributi quindi le epicles e poi infine le uche cioè la preghiera vera e propria tipica dello stile liturgico in particolare la ripetizione del pronome dell'aggettivo possessivo di seconda persona che abbiamo sentito più volte in anafora duplice anafora triplice anafora il poliptoto te tibi insieme all'anafora la cifra stilistica principale di questo passo è l'enjambarman l'enjambarman che gli enjambarman si moltiplicano nel corso di questa apparizione divina e danno un respiro molto vasto ampio al periodo soprattutto nei primi nove versi che accrescono la solennità dell'invocazione alla Dea e aprono davanti ai nostri occhi il quadro grandioso degli orizzonti sconfinati dalla terra feconda la terra vivificata dall'amore la natura ridente e rasserenante e si noti a questo proposito la successione di cielo mare terre ripresa poi successivamente in una disposizione chiastica dalla successione terra mare cielo in una struttura concentrica che dà veramente risalto alla diffusione totale di venere amore nell'universo gli effetti di solennità sono anche ricercati per mezzo del lessico abbiamo visto Eneadum che è un patronimico epico di stampo grecizzante e poi ominum divunque voluptas che riecheggia una tipica espressione formulare omerica che è riferita alla divinità e poi composti naviger frugiferens e poi anche alcuni sintagmi che sono propri dello stile sublime come lumina solis e poi che so dedala aggettivi rari preziosi come la dedala tellus che era un grecismo antonomastico per antonomasia perché dal nome dedalo si passa poi all'aggettivo dedala che vuol dire laborioso nei versi successivi dai versi 10 e 20 la descrizione degli effetti dell'istinto amoroso sugli animali all'inizio della primavera è scandita in tre momenti successivi abbiamo visto con una progressione amplificante direi proprio con una climax prima prima ci sono gli uccelli che annunciano l'arrivo della bella stagione primum poi inde ci sono gli altri animali che sono afferrati dalla passione dal desiderio amoroso e che si muovono per soddisfare le loro brame infine denique tutta la natura è invasa dall'amore mari monti fiumi boschi pianure e numerosissime sono le figure di suono in questo contesto soprattutto le alliterazioni il carattere musicale degli effetti artistici è rilevato da un grande studioso di lucrezio luciano perelli che nel suo commento definisce il passo uno splendido brano sinfonico dove ad ogni verso si leva una nuova voce di strumenti fino al solenne pieno orchestrale della conclusione nella parte finale dell'inno l'inno diventa preghiera vera e propria diventa euchè in greco si direbbe lucrezio chiede a venere di assisterlo nella sua nella sua opera nella sua fatica e qui c'è anche inserita la dedica a memnio e chiede anche di assicurare la pace cioè di assicurare le condizioni migliori perché il poeta e anche il dedicatario possano possano dedicarsi a quest'opera e venere deve trattenere con il suo amore Marte il dio della guerra ottenendo da lui il dono della pace per i romani la descrizione del dio l'abbiamo appena vista abbandonato nel grembo di venere che contempla e statico la dea e pende dalle sue labbra è di una tale bellezza che sembra proprio uscire dalla pagina e sembra essere un gruppo scultorio oppure un dipinto e comunque questa è poesia è veramente poesia che diventa pittura che diventa arte plastica ut pictura poesis potremmo dire certo rimangono delle questioni in sospeso ad esempio il fatto che un poema dedicato alla trattazione della dottrina epicurea che nega l'esistenza delle divinità tradizionali cominci con l'invocazione a una dea del panteo romano ha offerto ampia materia di discussione anche la preghiera rivolta a venere perché intervenga a favore della pace è sembrata in contraddizione con la concezione epicurea che vuole gli dei del tutto indifferenti alle vicende umane come si spiegano queste contraddizioni in realtà non si tratta di contraddizioni noi non dobbiamo aspettarci da Lucrezio la coerenza sillogistica del filosofo Lucrezio è prima di tutto un artista è prima di tutto un poeta che risponde soprattutto alle ragioni della fantasia quella fantasia che suscita immagini poetiche inimitabili è prima di